In prima assoluta a Manfredonia, lunedì 19 gennaio alle 21, in scena Fuga dall'Egitto, spettacolo documentario di Miriam Selima Fieno, Nicola Di Chio, liberamente ispirato al libro inchiesta omonimo della giornalista azzurra Meringolo Scarfoglio. E Leonardo, prima di collegarci con i nostri ospiti che sono già pronti, vediamo il trailer dello spettacolo. Il rischio è reale, ci vuole molta prudenza, ogni passo va calcolato. Cosa sto per fare? Un'opera politica? Un'opera di documentazione? Un'opera di denuncia? Mi preparo ad assimilare un pericolo che non conosco a proteggere chiunque decida di coinvolgere. Occorre mantenere un profilo basso, non raccontare apertamente quello che sto facendo sui social, scaricare le applicazioni giuste per comunicare e non scegliere mai la strada diretta. Non andare nel paese delle piramidi è giusto, anzi, è la scelta più utile. La maggior parte delle persone che ho incontrato in esilio ha raccontato che la decisione di lasciare l'Egitto era stata dovuta anche alla speranza di poter essere più utili fuori dal paese ma liberi a chi invece era rimasto dentro, in Egitto dunque, ma inevitabilmente dentro un carcere egiziano. E diamo il benvenuto a Just Today questa mattina a Miriam Selima Fieno e Nicola Di Chio in scena al Teatro Dalla di Manfredonia con Fuga dall'Egitto. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, uno spettacolo che unisce il teatro documentario alla musica dal vivo in uno stretto intreccio tra atto performativo e cinema del reale definito tra gli esperimenti più interessanti della scena drammaturgica contemporanea. Miriam, perché hai deciso di affrontare questa impresa che tu stessa hai definito folle? Dunque, noi insomma da un po' di anni stiamo dirigendo la nostra ricerca nel campo del teatro documentario e proprio quando eravamo in scena con uno spettacolo sulla Libia Io ho origini libiche, insomma, in cui raccontavo appunto la Libia di oggi attraverso la storia della mia famiglia ho incontrato questa giornalista, Azzura Meringolo Scarfoglio, che ha scritto appunto il libro Fuga dall'Egitto questo libro in chiesta. Come attrice ero stata invitata ad un festival per leggere alcune parti di questo suo libro e insomma, Azzurra, vedendo anche il nostro spettacolo sulla Libia e il linguaggio che utilizzavamo ci ha chiesto insomma se ci andava di lavorare sul suo libro e per noi, ecco, sin dall'inizio era chiaro che non avremmo potuto interpretare le storie di questi esuli egiziani queste persone che sono state costrette a lasciare appunto l'Egitto, il loro paese a causa delle loro idee in opposizione al regime di Al-Sisi e quindi abbiamo deciso un po' di rifare quello che ha fatto Azzurra quindi ci siamo messi per circa due anni di ricerca sulle tracce di questi esuli le abbiamo incontrati in giro per il mondo, abbiamo raccolto le loro testimonianze e attraverso l'utilizzo appunto del videodocumentario le abbiamo inserite all'interno dello spettacolo è stato un lavoro molto lungo, molto intenso, con molti rischi anche all'interno che però insomma alla fine ci ha permesso di poter dare voce a queste storie così importanti Da un punto di vista tecnico, domanda che rivolgo al regista Nicola Di Chio come è stato intrecciare i codici del teatro con quelli dell'audiovisivo? Ma noi come diceva Miria stiamo provando negli ultimi anni a provare a raccontare in un'altra maniera il teatro e inevitabilmente proviamo a mettere assieme queste due forme d'arte che sono quella del cinema e quella del teatro cercando in qualche modo di metterle in relazione e tra virgolette sfruttare il potenziale di una e il potenziale dell'altra siamo in un momento in cui sta cambiando quasi tutto e noi siamo dell'idea che anche il teatro deve in qualche modo provare a capire che cosa vuole raccontare e come lo vuole raccontare e inevitabilmente noi abbiamo provato a studiare il digitale, il video e tutto ciò che è in relazione all'immagine e quindi inevitabilmente al cinema documentario e al cinema del reale e devo dire che questo ci ha permesso di aggiungere un altro elemento alla nostra narrazione e sicuramente a mettere una lente di ingrandimento che permettesse attraverso l'immagine, attraverso il digitale di dare un'altra angolazione rispetto a una storia Faccio un nome su tutti, Giulio Reggeni Allora, lo spettacolo ovviamente non racconta di questa storia non sicuramente all'interno ci sono diverse testimonianze abbiamo appunto incontrato esuli diversi che hanno avuto storie diverse, esperienze diverse ma quello che abbiamo cercato di fare è di mettere davanti allo spettatore vari punti di vista di non dare un'unica visione ma di dare appunto la possibilità di conoscere la storia da tanti lati e poter capire anche dove calarsi all'interno di questo contesto così complesso dove ovviamente al centro c'è la relazione tra l'Italia e l'Egitto e la storia di Giulio è la storia di altre migliaia di egiziani e quindi ovviamente attraverso anche le varie testimonianze noi raccontiamo anche di questa storia ma non direttamente Quindi non si affronta solo il dramma egiziano ma anche tutte le storture e gli orrori nei confronti di cittadini che appunto sono vittime di questi regimi Avete parlato degli spettatori quindi mettete davanti allo spettatore la possibilità di avere diversi punti di vista Come hanno reagito? Quali sono state le loro recensioni a fine spettacolo? Avete avuto modo di confrontarvi con loro, con gli spettatori? Lo spettacolo ha debuttato tre anni fa a un festival internazionale di teatro a Torino e poi ha seguito una sua tournée che continua ancora quest'anno e devo dire che la reazione dello spettatore è sempre bellissima è sempre molto calorosa, molto emotiva e c'è da dire che questo ci dà uno stimolo in più a continuare a raccontare queste storie a continuare a indagare questa parte di mondo e a indagare queste storie apparentemente distanti da noi italiani, da noi occidentali ma che invece sono veramente molto molto vicini lo spettatore a fine spettacolo ci ringrazia ci ringrazia perché viene messo al corrente di una storia che non conosce una storia che ha sentito da qualche parte in televisione ma che conosce veramente poco quindi ci ringrazia e devo dire che lo spettacolo, la cosa bella è che continua anche quando finisce in teatro perché molta gente continua a scriverci sui social ci manda delle mail anche personali perché vuole condividere con noi quello che è successo durante il live, durante lo spettacolo e devo dire che questo è molto emozionante per noi e soprattutto dà un senso al nostro mestiere che non finisce la sera dello spettacolo ma continua anche nei giorni successivi con una discussione, dialoghi, con punti di vista diversi e devo dire che ci scrive chiunque c'è capitato, abbiamo fatto una tenuta molto lunga su Milano che anche esponenti politici ci chiedessero il nostro punto di vista e come dire continuasse, come dicevo poco fa questa discussione sulla tematica e a me fa sorrire perché partiamo dal teatro da questo mestiere molto trattato male però che comunque dà, come dire, un punto di vista nonostante tutto qualche messaggio riesce ancora a darlo potremmo dire così è ancora molto vivo assolutamente bene, ringraziamo Miriam Selimafiene e Nicola Di Chio ricordiamo lunedì 19 gennaio alle 21 venerdì, scusami Leonardo, è venerdì 19? venerdì 19, sì, è un appunto sbagliato assolutamente, venerdì 19 gennaio alle 21 fuga dall'Egitto, teatro dalla Manfredonia uno spettacolo documentario, fuga dall'Egitto appunto che questa mattina abbiamo voluto presentarvi grazie, grazie ad entrambi grazie a voi grazie a voi l'anno scorso abbiamo presentato From Siria e quest'anno hanno deciso ancora una volta loro di scommettere su questa nostra ricerca e su questo nostro lavoro quindi grazie a voi, buon lavoro alla prossima occasione grazie, grazie una prima assoluta in Puglia e allora è arrivato il momento di fermarci andiamo in pubblicità e poi torneremo insieme con Don Francesco Armenti grazie a tutti